C'è Marco Donatangelo in diretta, ho chiamato la tua sostituzione qualche minuto e poi sei entrato, ancora un campionato vinto per te. Sì, sì, sono contentissimo più che altro perché c'è un sapore particolare che ho vinto a casa mia dove io ho sempre voluto giocare perché sono stato il primo tifoso e non ci sono mai riuscito. Quest'anno mi sono tolto parecchie soddisfazioni e sono contento per i tifosi e per tutti quanti. La delica, Marco, è quella più importante? Quella più importante è prima la mia compagna che tra l'altro è venuta anche, Thea, ti amo, e mia mamma che oggi compie gli anni, quindi stasera doppia festa. Le donne più importanti della vita ringraziate e ricordate da Marco Donatangelo. Nel frattempo parte il coro dei ragazzi delle Chieti, io prego Mario Giacchetta di mostrare le immagini. Eccolo qui, si sono messi proprio sotto la curva dei tifosi del Chieti e partono i cori. Qualche secondo Marco e poi puoi tranquillamente riprendere la linea, io te la richiederò nel momento in cui avrò a fianco a me altri protagonisti. A te.